Allora carissimi stiamo leggendo dal libro di Tobia, come vi dicevo anche nei giorni scorsi che è un libro molto piacevole da leggere, assomiglia tanto a un romanzo e il protagonista di questo romanzo, di questa storia, di questo episodio sacro che si dipana per le vite di tante persone e questa utopia, cioè questo ebreo giusto andato in esilio durante i 70 anni in cui Gerusalemme rimase quasi abbandonata dopo essere stata distrutta dai babilonesi. E il figlio di Tobia, cioè Tobiologo, è il secondo personaggio in realtà cui rubo la scena un po' alla patria perché siccome tante disgrazie erano capitate a Tobia al motivo della sua rettitudine, della sua giustizia e allora si trovavano in ristrettezze economiche. E quindi il padre che oramai era diventato circo suggerisce al figlio, chiede al figlio di regarsi da loro, da un parente, a riscuotere un prestito che gli aveva fatto tanti anni prima. E qui trova una situazione molto incapugliata, Tobiologo, il figlio. Innanzitutto mentre va dentro Sireica in questa città, incontra un giovane che poi scopriamo essere un angelo, l'angelo Raffaele, se vedete poi tra i quadri che ci sono qua, che rappresentano gli angeli, quel quadro in particolare rappresenta San Raffaele ed è vestito come un pellegrino, quello che lo potete vedere, con un pesce in mani. Perché poi abbiamo saltato dai passi del libro in cui si dice che pescano un pesce e questo pesce insomma ha il fiele, il fegato e gli occhi insomma. E il fegato è capace di cacciare i demoni e il fiele è capace di guarire gli occhi. E questo pesce è il simbolo di Cristo, sapete che anche nelle comunità cristiane primitive quando si vedevano un pesce voleva dire, voleva significare proprio il Signore Gesù. E allora però in che senso c'è un imbroglio in questa famiglia di questo lontano parente? Perché la figlia unica di questo uomo, che si è addirittito proprio grazie al prescrito di Tobia, si è sposata sette volte. Ma ciascuno dei sette variti è morto nella prima notte di questo. E lei, Sara, è rimasta vergine ancora, pensate un po'. Quindi un demonio, un asmodeno, si accanisce su di lei. Ora noi possiamo trasportare ai nostri giorni questa storia. Perché? Perché noi vediamo che nelle famiglie del nostro tempo, contro le famiglie nel nostro tempo, veramente si accanisce il demonio. La vita familiare è molto insidiata. Al di là dei divorzi, al di là dei matrimoni, sono civili. Purtroppo sono dei cattolici che cedono i matrimoni solo civili. Per cui fanno capire che non ci credono nella pensione di Dio, non hanno bisogno della pensione di Dio. Al di là delle condivenze, no? Ma là, anche dove i matrimoni non si sfasciano, almeno formalmente, molti sono separati in casa. Molti vivono dei matrimoni lasti, in cui prevale la rossuria. non prevale la preminenza di Dio, il primato di Dio. Ecco, sì, leggevo un sondaggio che diceva che nel periodo del Covid, anche all'interno delle famiglie, è aumentata in modo esponenziale la pornografia. Molti cristiani non sanno che la pornografia è un grave peccato. per non parlare poi di tante altre pratiche che esistono. Vedete, non ci dobbiamo scandalizzare a parlare di queste cose, perché il mondo ne parla e non si fa nessun tabù. Allora, c'è un accanimento, proprio come contro Saga, c'è un accanimento del diavolo contro le famiglie, per distruggerle le famiglie. e le distrugge in due modi. Da una parte, facendo loro smarrire il senso del sacramento, del matrimonio cristiano. Dall'altra parte, facendo prevalere ecco l'aspetto genitale della sessualità. E allora, come si reagisce a tutto questo? Ecco, qui la lettura non lo dice, perché già era lunga la lettura, ma sarebbe durata parecchio ancora. Però loro prendono il fegato di questo pesce e lo mettono sul braciere, perché il profumo di questo fegato allontana il demonio impuro, il demonio meridiano, e poi però si mettono al brigare. Si mettono al brigare e vedete la brigare che fanno tutti e due insieme. Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni il tuo nome. Tu hai creato Adama e hai creato Eva, sua moglie, perché fossero di aiuto e sostegno l'uno all'altro. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto, non è cosa buona che l'uomo ne stai solo. Facciamogli un aiuto simile a lui. Ora, attenzione, non per russuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Degnati di avere misericordia di me e di lei, di farci giugno insieme alla vecchiaia. Allora, la preghiera caccia il demonio impuro. Però, attenzione, la preghiera vera, e poi la preghiera fatta insieme, ecco, questo è un dato importante. Marito e moglie non solo dovrebbero pregare ciascuno per conto suo, ma dovrebbero pregare insieme. Ricordo una famiglia cristiana che disse così, noi abbiamo superato la paura di restare lunghi tra di noi, ma non abbiamo superato la vergogna di pregare insieme. non riusciamo a pregare insieme perché ci vergogniamo uno dell'altro. Quando la famiglia prega insieme, o la famiglia, è inespugnante dal demone. Perché la famiglia che prega insieme è la Chiesa che prega. Invece, se ogni membro della famiglia, quindi il marito, poi la moglie, poi i figli, pregono, ma pregono ciascuno per conto loro, non è la Chiesa che prega. Perché la famiglia, noi sappiamo che è la Chiesa domestica, è la Chiesa della casa. E non so quanti di voi hanno visto l'immagine di Maria che scioglie i mondi. Quella immagine di cui il Papa Francesco è molto devoto, ha diffuso questa immagine, un po' dovunque. Ebbene, vengono i nostri amici rovi e cari, discendono dalla Montemullese. E' guardato, come si trova. Quindi, la famiglia, dicevo, della Madonna Maria che scioglie, che è un'immagine della Madonna che Papa Francesco ha diffuso. Quella immagine della Madonna ritrae proprio Tobiolo, Sahara e l'arcangelo Raffaele sotto l'immagine della Madonna. Ed è un'immagine della Madonna fatta dipingere come ex-voto da una famiglia che stava per separarsi e che poi, grazie all'aiuto, non sa già tutto, non si è separata più. Allora, preghiamo la Vergine Santissima Maria che scioglie i modi per le famiglie del nostro tempo. Non so quanti di voi avete visto anche un'intervista che ho fatto al Veggente di Città Vecchia in cui parla proprio del fatto che al cuore di quelle apparizioni c'è il messaggio della Madonna che già nel 1995 metteva in guardia la Chiesa e il mondo dal pericolo che il demonio distruggesse le famiglie. E adesso siamo proprio in quella situazione. Che Maria ci protegga e che le nostre famiglie possono rinascere da Cristo dalla preghiera più forti e missionarie. Così sia. Grazie. 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 Grazie.